pesci 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 i nostri figli saranno dei pesci forse forse non è detto perché se invece nascono dopo la mezzanotte ariete lei preferisce pesci o ariete l'arriete non l'ho mai mangiato preferisco il pesce se fosse è più morbido più cucinabile cucinare un ariete ci vuole un forno grosso così e per mordolo ci vogliono i denti di un lupo e ha tol'arriete e mi sa che lei non fuma solo sigarette come scusi guardi che la mia vita è strapiena di tante cose assai piovose c'ho anche un po di malinconia ma alle volte un bel culo fa allegria come sono corrotto io non so lei chi sia ma un dettaglio non un difetto forse forse direi anche meglio quando parla è un po troppo aggressiva e perciò va punita io ci tengo a rapporto umano perciò va punita il perché non lo so nemmeno però va punita sono peggio di un talebano però va punita 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 quante ne abbiamo passate oggi stavo camminando per strada a un certo punto mi sono appoggiato a un muro mi stavo per accendere una sigaretta e ho sentito una voce che mi diceva chi sei chi sei chi sei era la tua coscienza no mi ero appoggiato a un citofono grazie 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 l'anno prossimo facciamo quello che ci manca stasera che comunque visto era anche troppo grazie andate a casa ad asciugarvi grazie buonanotte grazie